Due giovani italiani del posto di 30 e 48 anni e due cittadini extra comunitari di moranti a Cogli al Metauro di 33 e 35, di origine rispettivamente albanese e kossovara, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Fano unitamente al nucleo cinofili di Pesaro all'interno dell'operazione Coffee Break. Gli arresti sono il risultato di due diversi interventi eseguiti dai militari nei comuni di Fano e Cogli al Metauro, accomunati dall'essere entrambi avvenuti nei pressi di bar e esercizi di ristorazione. Per quanto riguarda gli arresti di Fano, uno dei due ragazzi all'interno di un locale ha tentato di disfarsi maldestramente di un involucro contenente oltre 10 grammi di cocaina, ma i militari sono riusciti subito a recuperarlo. Inoltre il giovane è stato trovato anche con 605 euro. Nello stesso locale sono stati notati anche altri due soggetti a partarsi nei servizi igienici con fare sospetto. Le successive perquisizioni nell'abitazione, in questo caso del 48enne, hanno permesso ai militari di ritrovare 60 grammi di marijuana e l'occorrente per il confezionamento e il peso della droga. Le arresti avvenuti a Cogli al Metauro sono invece il risultato dell'esecuzione di uno specifico decreto di perquisizione messo dalla Procura della Repubblica al Tribunale Pesarese, eseguito congiuntamente dai carabinieri delle stazioni di Fano e Cogli al Metauro. Siamo quotidianamente impegnati come compagnia di Fano, quindi sia tramite le stazioni che il luco operativo e il radiomobile della sede, in un controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere, soprattutto i reati in materia di stupefacenti. È stata un'operazione importante, a poca distanza, poco più di una settimana dall'altra, abbiamo arrestato quattro persone, due ragazzi italiani e due stranieri. Abbiamo sequestrato quasi due etti di sostanza stupefacente e un ingente quantitativo di contanti che parliamo intorno ai 10.000 euro. Ad accomunare questi due arresti che sono stati eseguiti a seguito di due diversi interventi, uno su Fano e uno su Cogli al Metauro, sicuramente il modus operandi dei latori dello stupefacente, cioè dei soggetti che sono resi responsabili delle cessioni. Di fatto utilizzavano questi due bar come luoghi dove tra un caffè e un altro poter spacciare droga agli avventori con modalità potenzialmente idonee a tenere lontano degli occhi indiscreti. Ci tengo a precisare anche il contributo fondamentale e prezioso che ci è stato dato dai colleghi del Nucleo Cinofili di Pesaro, in particolare dal Canewan che a distanza di poco più di una settimana si è reso responsabile di un altro rinvenimento importante. Ha fiutato e ci ha segnalato lo stupefacente in una intercapedine di un ripostiglio adiacente dell'abitazione, abitazione in aperta campagna, sicuramente un posto molto difficile dove senza il contributo del cane, insomma, difficilmente saremmo arrivati a trovarlo. Le fasce dai 30 anche ai 50 anni, parliamo di avventure di questi bar che quotidianamente frequentavano i locali. In particolare due degli arresti sono scaturiti in esecuzione di decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Nei giorni precedenti abbiamo fatto dei servizi di osservazione al bar di Colli del Metauro, questo esercizio di Colli del Metauro e abbiamo raccolto degli elementi tali da far emettere questi provvedimenti.